Salve a tutti ragazzi, oggi farò un video tutorial. Però prima volevo salutare, un mio fan, Liuk4315. Ciao Liuk4315, iniziamo il tutorial. Prendiamo delle pietre. Poi una core block rotation. Facciamo un buco per far rotare la porta. Mettiamo delle pietre sopra la core block rotation. Mi raccomando non mettete le pietre sopra altri materiali. Ma che merda di canzone è? Prendiamo il control panel per velocizzare la rotazione. Ma che merda di canzone è? No, forse è pazzo. Prendiamo una laypa per far funzionare la porta. Per fare rotare all'indietro, prendiamo il control panel e poi andiamo su una scritta e mettiamo off. Ora taglio il video per motivi di tempo. Prendiamo insulati omplate, servono per non fare appiccicare al muro per terra. Clicchiamo sul core block rotation e aumentiamo tutte e due le velocità. Ciao e al prossimo tutorial di Minecraft.